E' un po' di cazzi tu hai mai! Mi scusi a lei, la dottoressa? Beatrice, porca è! Sto socializzando qui! No, si sta impicciando, avanti, per cortesia. Per esempio, come te la cava questa Morelli? A Beatrice ha sottoposto Donatella una specie di love bombing. E praticamente l'ha espugnata. C'è un autobus! Venite! Lo aspettiamo stasera per piacere, una bravata. No, la macchina, no! La macchina! La Tchaikovsky, eh? Venite, venite, venite! Non c'è ancora! E qui si deve avvertire subito le forze dell'ordine. Siete matte? Secondo alcune perizie, sembrerebbe di sì. E basta di stare sempre male, basta. Voglio stare bene. Vogliamo stare bene. Non c'è, se sta male, ga rendere.